Sono come guerrino presidente dell'UCI di Bergamo, ringrazio il comune della questione della Presolana per dare questa possibilità di riunire tutti questi cori in questo bello ambiente della questione della Presolana. È un'iniziativa che l'UCI ha già da 20 anni che lo fa, un po' di anni sono stati saltati per motivi di finanziamenti e finalmente il comune della Presolana l'ha preso in senso di partecipare a questa bella iniziativa. È davanti a un buon pubblico, è stata una giornata molto intensa, bella giornata con tutta l'acqua che è arrivata fino a ieri, oggi è arrivato anche un bel sole e la partecipazione di 250 coristi è stata fatta una messa accompagnata da tutti i cori e ora, dal pomeriggio, c'è tutta la manifestazione che ogni coro si esibisce con cinque canti a testa. Questo tipo di manifestazione tiene uniti i cori, i coristi, i maestri e il pubblico specialmente che si è molto sentito questa organizzazione e vi aspettiamo il prossimo anno. Vieni a godere, tra la la la, tra la la la, quando l'onde ci culleranno, Allora d'amor, d'amor, noi parleremo, quando staremo fora, fora per la bazzugana e a ritrovare la mamma, a vedere come la sta e a ritrovare la mamma, a vedere come la sta La mamma la sta bene, il papà l'è ammalato La mamma la sta bene, il papà l'è ammalato Il mio bel bel beach medpa di soltato Chissà quando quando tornerà Il mio bel beach medpa di soltato Chissà quando, quando tornerà Mi benevo in campagnola, mi benevo in campagnola, mi benevo in campagnola, campagnola a lavorare. Mi benevo in campagnola, campagnola a lavorare.